Intanto questa è un'esperienza particolare di un percorso in un cantiere. Essere in un cantiere vuol dire toccare e mettere le mani nella materia del profondo. È un'esperienza unica perché è tutto un divenire. È toccare uno spazio immaginario non ancora costruito. Non si sa quello che ci sarà, ma tutto è possibile. È un percorso che tocca la nostra revri, la nostra capacità anche di sognare. Si parte dalla superficie e si va dentro. Si toccano degli stati primari, arcaici, forse anche inquietanti. Ma poi alla fine ci si ritrova, come qui e adesso, insieme. Ci si perde e ci si ritrova. Ma forse l'unica maniera per trovarsi è proprio quella di perdersi. Comunque da questo posto dove siamo adesso riuniti ne usciremo. Chissà dove, chissà come.